Ciao a tutti ragazzi Allora, oggi dopo moltissimo tempo ritorno con un nuovo tutorial su macOS X e quest'oggi andiamo a vedere il nuovo iTunes 11 quindi eccolo qui iTunes 11 che per chi ha Windows è scaricabile tranquillamente scrivendo iTunes su Google lo trovate sulla pagina web dell'Apple download di iTunes e molto semplicemente per Mac e per C lo installate benissimo quindi chiudiamo Safari e andiamo a vedere iTunes 11 interfaccia cambiata a mio parere a favore perché questa interfaccia se devo dare la mia opinione da quelle che ho visto di iTunes questa è la migliore perché è molto meglio organizzata e infatti possiamo vedere brani album artisti generi playlist radio e iTunes match radio playlist generi artisti album brani io preferisco io preferisco comunque la visualizzazione album potete vedere che non c'è più nessuna come dire gonfiatura bombatura ecco inutile è tutto più minimale e naturalmente le solite funzioni che conosciamo iTunes store e match iTunes match andiamo a vedere iTunes match solamente che io non sono abbonato quindi dico no grazie la solita funzione per mettere a schermo intero che ormai in Mountain Lion è presente il mini player che è questo qui questo è il per chi volesse un mini player è possibile attivarlo tramite questo pulsante qui è possibile attivare la visualizzazione di iTunes in mini player ma comunque io lo preferisco sempre tutto bello grosso poi alla fine se devo far partire una canzone e lavorare faccio partire la canzone abbasso la finestra di iTunes e faccio quello che devo fare comunque questo è iTunes in poche parole siamo a 3 minuti e 5 secondi penso di aver detto tutte le novità andiamo a vedere se c'è qualcosa di nuovo nelle preferenze ma non penso proprio vediamo no in sintesi è sempre quello magari cambia un po' la visualizzazione ma niente di nuovo quindi ragazzi che dire noi ci sentiamo in un prossimo video tutorial su Mac OS X o su Windows ora in poi molto più frequenti dato che si stanno avvicinando le vacanze di Natale ora come potete vedere non ho installato Bootcamp quindi ho solo Mac ma a breve installerò Windows e ci saranno i tutorial anche lì quindi per chi non lo sapesse ho cancellato tutti i video precedenti quindi come potete vedere in gestione video ora non c'è più nulla ho cancellato tutti i video precedenti così in modo da reiniziare da zero e di e reiniziare veramente ecco quindi noi ragazzi ci sentiamo in un prossimo video arrivederci a tutti